ancora un minutino e iniziamo la nostra lettura allora intanto vi ricordo che stiamo leggendo dal volume dai mondi invisibili e riprenderemo la lettura da pagina dall'inizio di pagina 189 stiamo leggendo la terza parte del volume dai mondi invisibili edito dalle mediterranee del cerchio in firenze 77 la terza parte che la parte dedicata all'insegnamento etico filosofico sera cinzia rosa e riprendiamo il tema che abbiamo lasciato abbiamo interrotto la volta scorsa tema molto importante cruciale che in qualche modo ma posso dire far rivedere un po la posizione delle proprie responsabilità e di quello che succede relativamente al tema della della libertà vi ricordate dico solo due parole prima di iniziare nella lettura vi ricorderete che le definizioni che sono state date dai maestri del cerchio firenze 77 rispetto al tema della libertà prima di dirvi qual è la definizione più immediata che è stata data dai maestri mi devo ricordare di questa pagina facebook sulla quale ci troviamo e anche della dell'ospitalità dentro l'università della conoscenza lux voluto da tamburini torre e quindi iniziamo ricordando qual è qual è la definizione che i maestri hanno dato maestri dicono che la libertà per libertà si intende assenza di limitazioni sostanzialmente questo che cos'è la libertà assenza di limitazioni quindi è dicono i maestri massimamente libero chi è privo di chi non ha influenza ma non solo influenze esterne anche influenze interne perciò è libero anche da necessità che lo spingono a operare determinate scelte poi la libertà in questo caso quella che gli permette di soddisfare certi bisogni che ama quando l'uomo è massimamente libero tant'è vero che maestri dicono l'assenza di desiderio rende l'individuo indeterminatamente libero e poi molto brevemente vi ricordo che come descritta dai maestri la libertà è stata suddivisa in assenza di libertà che è un'assenza parziale quando c'è ci sono solo un certo numero di cose che devono essere necessariamente vissute da un individuo e quindi le cui azioni e sia quelle che compie quelle che subisce sono in qualche modo predestinate dai meccanismi del karma oppure totale quando c'è un'assenza totale di libertà e cioè quando qualsiasi evento nell'esistenza è preordinato in maniera molto puntuale da fin nei minimi particolari e maestri ci hanno fatto l'esempio di quella prima forma di vita di pulsazione di vita che è il processo di cristallizzazione dove tutto è è quello non può essere altro che quello e lì c'è un'assenza totale di libertà poi c'è invece la libertà che è stata suddivisa in libertà spuria e cioè una libertà che è determinata come dicevo prima da necessità interiori oppure da accadimenti esterni che comunque inducono l'individuo a operare delle scelte che magari vede soddisfatte credendo così di essere stato libero di scegliere ma se è stato determinato da una necessità interiore è quantomeno obbligato a seguire quella quindi c'è comunque un obbligo c'è una limitazione quella è una libertà spuria la libertà pura invece e quando individuo può oggettivamente scegliere in assenza di qualsiasi influenza e con questo ci eravamo portati fino alla fine di pagina 188 iniziamo adesso la nostra lettura da pagina 189 se si vuole avere un'idea chiara di quale libertà libertà di arbitrio possono usufruire le creature si deve paragonare l'entità che organizza la forma più semplice di vita cioè il cristallo a un'equazione di primo grado non so se siete bravi in matematica ma credo che ci siamo passati tutti attraverso queste a un'equazione di primo grado in cui c'è una sola soluzione una sola è la soluzione le entità superiori a questa ad equazione di grado superiore al primo fino a giungere a dio assoluto paragonato ad un'equazione di grado infinito in cui infinite sono le soluzioni la libertà è rappresentata dalle soluzioni disponibili questo il pensiero del maestro pitagora il più chiaro profondo completo conciso sull'argomento del libero arbitrio niente vi è da aggiungere niente da chiarire la libertà dell'individuo cresce con il suo evolversi più più un individuo si fa complesso più alla possibilità di confrontarsi con il tema della libertà l'altra volta diciamo anche qualche cosa che riguardava questo aspetto cioè il sentirsi libero o confrontarsi con il tema della libertà cioè sentirlo un tema per se stesso pone già di per sé dei limiti cioè uno sente il bisogno di riflettere sulla libertà quando in qualsiasi misura anche minima sente di potersi confrontare con le limitazioni di doversi confrontare con le limitazioni e quindi con la ma con l'assenza di libertà sente di non poter scegliere alcune cose perché gli sono precluse ed è lì che si pone il tema della libertà determinare fino a che punto l'uomo è libero è sempre stato un problema appassionante esiste il destino ovvero una predestinazione implicitamente ammettendo questo neghiamo che l'uomo possa avere una libertà conseguentemente una responsabilità dei propri atti perché se io non sono libero di scegliere diversamente da quello che faccio e allora non sono neanche responsabile di quello che faccio cioè se sono precostituito se ci sono tutta una serie di influenze che mi bloccano ad agire in una certa direzione inevitabilmente non sono neanche responsabile dei miei atti anche se li compie ma oltre a questo l'assenza della libertà impedisce all'individuo l'avere delle volute esperienze e quindi l'evolversi della sua coscienza d'altra parte non è vero che l'uomo abbia una libertà assoluta proprio per il fatto di essere uomo cioè di avere delle necessità fisiche ovvero delle schiavitù qualsiasi necessità è una schiavitù sono termini un po forti ma se si va alla radice del significato di ciò che vogliono dire è una verità se io ho che ne so la necessità di cibarmi tutti i giorni perché se non mi cibo muoio io sono ineluttabilmente legato a questa necessità e quindi è una schiavitù poi la posso vivere anche come un piacere la soddisfazione di questa necessità ma non posso togliermi questa necessità inoltre per avere la libertà di scegliere il bene o il male come si dice si deve essere al di fuori del bene o male per non venire influenzati nella scelta esiste una legge di causa ed effetto la quale l'uomo sottostà ciascuna azione comporta un effetto adeguato che l'individuo deve subire in una delle prossime esistenze in realtà la legge di causa ed effetto è presente ovunque in ogni momento perché chiunque di noi non può pensare ad una sola cosa che non sia predeterminata da qualche cosa di precedente non esiste un'azione che non abbia a monte qualche cosa da cui muove tant'è vero che la maggior parte direi la totalità delle azioni che noi compiamo sono reazioni a qualche cosa cioè noi incontriamo stimoli che ci spingono ad agire se non è un'azione fisica materiale è un'azione di pensiero un'azione con la parola è un desiderio che si muove vediamo un'immagine azione nasce un desiderio dentro di noi reazione quindi effetto e via 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 ecco in che cosa consiste la predestinazione in certi carmi in certi karma anzi volevo soffermarmi su questa frase che ho letto prima cioè ciascuna azione comporta un effetto adeguato che l'individuo deve subire in una delle prossime esistenze qui si sta parlando del fatto che alle volte muoviamo delle azioni talvolta inconsapevolmente o comunque senza la piena coscienza di quello che facciamo perché la nostra coscienza non è maturata in maniera tale da impedirci di compiere certe azioni o da indirizzarci nel modo giusto nel nostro agire ed ecco che cosa succede che dovremmo incontrare gli effetti di questa causa che muoviamo con questo muovere un'azione di un certo tipo bene alle volte questo effetto noi non lo incontreremo in questa nostra vita ma nella successione delle esistenze tutte collegate tra di loro che conducono portano avanti un percorso tra virgolette evolutivo noi incontreremo quell'effetto l'effetto della causa mossa oggi la incontreremo quando saremo in grado di capirne la portata o quanto meno quando saremo in grado di sopportare il peso dell'effetto mentre lo subiamo perché se noi incontriamo combiniamo qualcosa di grave diciamo così per essere semplici e non siamo in grado di capire non saremmo in grado di capire qual è l'effetto di quest'azione mossa da noi se l'effetto ricadesse immediatamente noi non ne trarremmo il pieno dell'esperienza non non ci servirebbe per il nostro percorso evolutivo perché semplicemente rimarremo schiacciati dall'esperienza quindi noi incontriamo effetti portanti di certi karma quando siamo in grado di subire l'effetto di portarlo sulle nostre spalle anche con molta fatica e poi di comprenderne il significato proseguendo dice il maestro ecco in che cosa consiste la predestinazione in certi karma per dirla con gli hindù che si devono scontare e che hanno ragione d'essere come ha ragione d'essere la scottatura che si prova avvicinandosi a una fiamma ti avvicini alla fiamma tocchi la fiamma metti il dito sulla fiamma quella è la causa la bruciatura è l'effetto naturalmente è l'uomo con le sue azioni non il fatto che costruisce l'ossatura della futura esistenza i particolari saranno costruiti da ciascuno secondo la libertà di cui godrà proporzionalmente alla sua evoluzione quindi qui torna il tema della libertà dove si dice che la libertà è proporzionale all'evoluzione ma ricordate anche questo punto importante che abbiamo già letto il fatto di essere consapevole o meno coscienti o meno maturi o meno rispetto all'azione che muoviamo non ci salvaguarda dal dall'effetto che incontreremo a tempo debito quando saremo in grado di incontrare quell'effetto perché questo perché quell'effetto è importante per noi per apprendere certi comportamenti un effetto che ricade su di noi che noi viviamo è proprio perché è vissuto su di noi sulla propria pelle è qualche cosa che si iscrive così profondamente che ci permetterà una fase successiva della nostra evoluzione di non compiere più azioni come quelle che hanno determinato quell'effetto che abbiamo incontrato e che ormai abbiamo appreso e quindi è una forma di apprendimento diretta una forma di apprendimento profonda diretta che poi c'è da ripetere come apprendimento è appreso per sempre perché fa parte dell'essere da pagina 190 questa libertà condizionata l'uomo non sa godersela nella sua pienezza in quanto spesso si autolimita creandosi delle regole dei pregiudizi che non osa trascendere questi è l'uomo limitato che rifugge ogni innovazione che giudica e comprende secondo i suoi schemi di pensiero che non osa andare oltre ciò che altri ha sperimentato e quindi cosa ci stanno dicendo qui le guide che non c'è solo un limite dovuto alle situazioni contingenti ma ci sono dei limiti che noi poniamo a noi stessi sono dei limiti con i quali noi ci confrontiamo non ci sta neanche dicendo il maestro che noi dobbiamo essere in grado di superare questi limiti perché non bisogna dimenticare il primo assunto e cioè che la libertà è proporzionale all'evoluzione e quindi noi abbiamo la libertà di fare per esempio delle scelte innovative se abbiamo maturato la coscienza per farle qui adesso c'è una pagina dove c'è una non sono i maestri che parlano ma è il redazionale di chi ha compilato di chi ha organizzato il volume che però è scritto è interessante quello che si va a leggere adesso da quanto precede discendono conseguenze che pur senza incidere in quella sfera inattaccabile e rinunciabile di responsabilità che ciascuno possiede nell'ambito della propria libertà questi queste conseguenze radicalmente trasformano i rapporti di causalità entro i quali siamo soliti inquadrare gli eventi esterni noi siamo soliti guardare gli eventi esterni facendo collegamenti logici ma tutte le descrizioni che sono state fatte finora sul tema della libertà da parte dei maestri trasformano questi rapporti di causalità causalità vuol dire questa cosa avviene per questo per qualcosa che l'ha determinato più precisamente di dice l'estensore il concetto di responsabilità direttamente si collega a quello di karma non appena si pensi al problema degli effetti che l'azione e in genere l'influenza di ciascuno può avere sulla vita degli altri individui questo tema viene dalle nostre guide trattato con particolare riferimento agli effetti negativi di tale azione il caso limite preso in considerazione quello dell'omicidio ma con tale ipotesi particolare è una legge ben più generale che viene qui a delinearsi quella e questo è molto interessante ci soffermiamo un momento su questa quella per cui nessuna creatura può soffrire per mano di un'altra se ciò non è carnicamente prestabilito capite bene che questo stravolge proprio la nostra visione delle cose perché se noi vediamo qualcuno commettere che ne so della violenza su un'altra persona o arreccare un danno questa persona che compie queste azioni è sicuramente responsabile di ciò che fa da un certo punto di vista evolutivamente non ha maturato in sé la possibilità di sottrarsi a questi impulsi dannosi verso gli altri quindi è in una fase evolutiva che noi giudicheremo precoce prematura non precoce prematura nel senso che all'inizio magari del suo percorso evolutivo e quindi in questo senso da un punto di vista spirituale non può essere giudicato non va giudicato anche se ovviamente poi viene sottoposto al giudizio degli uomini per cui viene condannato per quello che fa e qui stiamo parlando di colui che compie l'azione poi c'è la vittima dell'azione e qui si dice una cosa importantissima si dice la vittima dell'azione non non poteva che subire quell'azione e allora è paradossale paradossale è importante capire come stanno insieme due necessità evolutive specifiche 1 attraverso un'azione che noi definiamo muovere una causa attraverso il muovere una causa perché non ha maturato quella coscienza e non è stato in grado di maturare quella coscienza che gli impedirebbe di muovere quella causa e quindi attraverso quella causa subirà successivamente un effetto che gli insegnerà definitivamente a non muovere quella causa e quindi deve necessariamente muovere quella causa per avere quell'apprendimento e quella causa ricade su qualcuno che subisce l'effetto di quella causa lo subisce su di sé le conseguenze di quella causa mosse e ne è vittima ma chi ha mosso la causa non lo fa in maniera libera non lo fa come posso dire casualmente perché chi subisce l'effetto sempre per incontrare l'effetto di cause mosse da lui precedentemente e quindi deve incontrare quell'effetto per avere il suo grado di apprezzione ecco che questa persona subisce l'effetto per apprendere a sua volta qualcosa e quindi alla fine diventa che l'aggressore è lo strumento per cui la vittima possa da un punto di vista spirituale acquisire ciò che non ha potuto acquisire precedentemente e la vittima in quel momento sta subendo l'effetto di qualche cosa che nella successione delle incarnazioni lui stesso tra virgolette ha determinato nel momento in cui non aveva sufficiente coscienza per impedirsi di muovere una causa che oggi come effetto ha proprio quella esperienza che l'individuo sta vivendo in quel momento come vittima e lo sta vivendo in quel momento come vittima perché è dal punto di vista della coscienza sufficientemente maturo per comprendere che cosa significa vivere subire una prova di quel tipo perciò il chiamiamolo così per semplificare il carnefice alla sua responsabilità muove cause ed incontrerà i suoi effetti ma in quel momento è anche strumento per il compiersi di un karma nei confronti della vittima la quale attraverso subire le conseguenze di quello che sta accadendo apprende qualche cosa che precedentemente non aveva potuto comprendere quindi è una concatenazione perfetta che mette insieme due esigenze evolutive diverse torno a leggere qui allora vediamo un po scusate che mi fermo un attimo perché c'è una richiesta qua ho capito bene mi domanda se in questa vita ho sofferto per qualche dipendenza nella prossima incarnazione l'anima ha imparato e le viene risparmiata quella sofferenza sofferta nella vita precedente proprio quello che dicevano che lei che stavamo leggendo adesso in entrambi i casi quindi tutto è già stabilito per evolvere per apprendere esatto proprio così è stabilito si ricordiamoci che noi siamo partiti cercando di comprendere bene il tema della libertà perché ci stiamo soffermando su questo punto adesso in particolare perché naturalmente quando adesso lo leggeremo proprio dai maestri quando viene compiuta un'azione su un'altra persona sembrerebbe che chi subisce non aveva nessun motivo di subirla chi chi compie l'azione non avrebbe nessun diritto di fare violenza su un altro e quindi ciò che noi vediamo come senso comune della nostra esperienza esistenziale e che viene commessa in quel momento un'ingiustizia e questa è l'esperienza che noi continuamente vediamo intorno a noi noi stessi siamo costantemente sottoposti a delle forme di tra virgolette ingiustizia cioè come vengono fatte delle cose che ci danneggiano ci danno fastidio ci turbano veniamo esposti che so dico dico una sciocchezza adesso anche per per farvi capire quanto è ampio questo tema ma tutti noi per esempio siamo obbligati a guardarci la pubblicità in televisione che è una piccola violenza che ci viene fatta e che dobbiamo subire no e per cui è una cosa che ci infastidisce evidentemente attraverso questa esperienza noi dobbiamo imparare per esempio una delle tantissime cose che potremmo imparare è che non dovremmo imporre agli altri per trarre i nostri vantaggi le nostre proposte e quindi disturbare gli altri entrando nelle loro vite pur di ottenere da loro qualche vantaggio che è quello che fa la pubblicità e attraverso la pubblicità fanno coloro che producono i prodotti ho fatto un esempio molto semplice ma per farvi capire che come dire forme di piccola o gigantesca giustizia avvengono continuamente ma è una lettura che facciamo noi come uomini da un punto di vista spirituale sono tutti stimoli che hanno un significato specifico per la nostra evoluzione il libro arbitrio mi chiede maria grazia è stabilito in primis dell'incarnazione allora stavo dicendo questo stavo dicendo che quando noi nasciamo riprendiamo contatto con i nostri corpi ma questo avviene gradatamente per cui ogni più o meno è una forma così molto indicativa come cifra ogni grosso modo sette otto anni c'è un collegamento completato con una parte delle nostre dei nostri altri corpi di cui non siamo così consapevoli cioè corpo astrale poi il corpo mentale poi la parte legata alla coscienza allora quindi vedete che è molto graduale quando ci sono dei bambini che come si diceva nella domanda che ho visto prima di rita subiscono delle violenze e in quel caso la soprattutto se periscono a causa di violenze quindi non hanno avuto modo di questa entità di collegarsi pienamente con la loro espressione esistenziale con la loro con il loro corpo a casa con la coscienza allora quello che accade la è che quella esperienza è per esempio un'esperienza estremamente traumatica che ne so per i genitori o perché assiste a quello che sta succedendo e che quindi è in quel ruolo subisce l'effetto carmico mentre il bambino diventa quasi lo strumento perché quella figura quella persona quell'adulto possa fare questa esperienza di sofferenza vedendo magari il proprio bambino sottoposto a una violenza da parte di qualcun altro fatto un esempio per farci intendere però se noi riusciamo ed è molto difficile perché i temi sono anche molto crudi certe volte non riusciamo a soffermarci sul piano spirituale sul piano del ragionamento spirituale noi vediamo che c'è qualcuno che sta per coscienza non ancora costituita sta compiendo delle azioni che non sono inibite da una coscienza matura e quindi sono azioni evolutivamente immature e di cui questa persona poi o direttamente o nel corso delle successive esperienze esistenziali incontrerà gli effetti e imparerà da quelle al tempo stesso quello che sta succedendo questa persona è strumento di apprendimento per qualcun altro e chi sta subendo questa queste conseguenze di certe azioni le deve incontrare proprio per apprendere a sua volta alcune cose per cui poi non sappiamo vedi nel caso dei bambini se stanno subendo conseguenze di cause promosse da loro stessi se poi questa persona come dire sopravvive alle violenze subite o a certi abusi no ci sono tante veramente è molto frequente poi non lavoro l'incontro persone che hanno subito da piccoli abusi abusi sessuali violenze di vario genere poi vivono la loro vita e si portano nella loro vita come dire il peso il segno una specie di stigma spesso segreto mai rivelato ma dentro di sé profondo che determina una vita di un certo tipo una vita magari o di sospetto di sfiducia o una vita di comportamenti aggressivi che sono l'effetto di certe cose vissute molto presto nella loro vita queste persone sono segnate da un karma importante un karma grosso e stanno facendo questa esperienza perché stanno apprendendo qualche cosa lo stanno apprendendo nella sofferenza ma lo stanno apprendendo in modo tale che loro per esempio se stanno subendo adesso l'effetto di una cosa analoga a quella che loro stessi hanno vissuto e che hanno mosso non loro ma insomma chi è collegato a loro alcune esistenze precedenti quando la coscienza non era formata oggi che la coscienza è in grado di permettere loro di incontrare quegli effetti apprenderanno a non essere più violenti a sapere in maniera proprio viscerale carnale a quale sofferenza può andare incontro una creatura sottoposta a certe violenze e proprio perché lo sanno su di sé è quello il modo attraverso il quale non lo rifaranno ad altri nelle successive esistenze avanti qui ecco bene adesso qualcuno si è ricollegato qualcuno si è perso ma noi andiamo avanti a leggere perché molto interessante questa parte allora riprendo da pagina 190 il punto d'attracco per il problema della libertà e responsabilità sotto il profilo ora delineato e dunque come si è detto costituito dal caso limite dell'omicidio ora si parlerà di questo le guide parleranno di questo il problema può venire posto nei seguenti termini se una creatura muore per mano di un'altra creatura quella morte doveva avvenire qui c'è un punto di domanda quella morte doveva avvenire o è stata la creatura che uccide a provocarla e qui rispondono i maestri la stessa cosa rispondono le nostre guide va osservata da due punti di vista ad esempio nell'assassinio sia colui che uccide e colui che è ucciso ora non è ammissibile che il libero arbitrio di una creatura possa provocare un danno così grave qual è il togliere la vita ad un altro individuo cioè una creatura non può fare questa somma di male per così dire si hanno dei casi in cui degli innocenti che transitano per una strada sono vittime di una sparatoria non sarebbe ammissibile che una creatura innocente dovesse subire un male così forte e allora qual è la reale spiegazione di questo fatto la reale spiegazione appunto si scopre vedendo i due lati della questione è come se dovessimo scorporare gli elementi che partecipano a questa cosa quelle creature quelle vittime quelle creature avevano chiuso il proprio ciclo di vita di una reincarnazione quindi il loro veicolo fisico doveva perire perché loro dovevano trapassare quindi passi casualmente davanti a una banca dove c'è una rapina esce fuori il rapinatore sparacchia di qua e di là ammazza una persona che non c'entra niente non è stata sfortuna la vita di quella persona finiva quel giorno in quel momento era proprio previsto che finisse così la sua vita si concludeva in quel modo in quel momento quel modo in quella situazione e quindi non è stato non è stata compiuta un'ingiustizia nei confronti di questa creatura si è semplicemente realizzato ciò che si doveva realizzare ma questo non salva lo sparatore dalle sue responsabilità cioè ha mosso una causa in cui effetti dovrà incontrare a tempo debito prendiamo l'esempio di una creatura che uccide questa creatura non ha saputo superare l'uccidere i propri fratelli attraverso il ragionamento che vi ricordate abbiamo anche detto che è possibile quando la coscienza raggiunge un certo livello è possibile proprio sul sul limite della capacità di questa coscienza apprendere attraverso il ragionamento invece che attraverso l'esperienza diretta quando parliamo di questi casi stiamo parlando dell'esperienza diretta ma non ha fatto in realtà un male così grave quale l'uomo crede che possa fare uccidendo in quanto l'altra creatura che è stata uccisa doveva trapassare purtuttavia questo non toglie che la causa sia stata mossa in quanto l'individuo che ha ucciso è realmente un assassino eccovi qua sarebbe però erroneo intendere le parole che precedono nel senso che il corso degli eventi sia rigorosamente prestabilito per entrambe le creature della nostra ipotetica vicenda dire infatti che così doveva essere è solo parzialmente esatto così doveva essere per colui che è morto ma non per colui che ha ucciso allora qui vi invito ad essere molto pazienti e a cercare di comprendere bene quello che diciamo perché qua in queste parole c'è il seme di qualche cosa che incontreremo fra un po di letture che ha a che fare sempre con il tema della libertà ma che prevede che nel frattempo abbiate raggiunto altre acquisizioni per poter entrare nelle pieghe di questo ragionamento dice il maestro così doveva essere per colui che è morto ma non per colui che ha ucciso per quella creatura che uccide non potendo superare questa azione attraverso il ragionamento altro mezzo non vera che l'esperienza diretta ma con questo doveva essere non si deve intendere una cosa predisposta dal fatto certamente che se non si comprende con la mente altro mezzo non c'è che il dolore e quindi doveva essere unicamente in questo senso cioè vi sono due vie se si scarta la prima non rimane che la seconda una creatura che può essere causa di sofferenze indicibili e del trapasso di milioni di esseri umani dovrebbe avere un karma inestinguibile aspettate che vi lascio in sospeso con questa domanda perché devo rispondere a qualcosa qui allora vediamo un po' ci sono molte guerre molte persone che vengono uccise il soldato compie un dovere che gli viene imposto come viene visto questo uccidere il prossimo dalle nostre guide e adesso rispondiamo stella tiziano mi vengono in mente gli incidenti mortali causate da persone distratte magari al telefono questi uccidendo non intenzialmente subiranno il karma sì sì l'intenzione ha il suo peso nel senso che il karma che tu incontri come dire è un insieme di elementi che determinano la forza l'importanza del karma che incontri ma sicuramente tu muovi una causa e incontrerai un effetto cioè per esempio potresti in un'altra vita essere investito da qualcuno che sta al telefono e quindi qualcuno che non ha voluto ucciderti ma l'ha fatto per distrazione siccome tu stesso sei stato distratto e hai prodotto quell'effetto imparerai attraverso questo che alle volte certe distrazioni in certe situazioni possono essere molto gravi cambiare la vita delle persone interrompere la loro vita trasformare la vita di tutti coloro che stanno intorno a loro insomma sono cose importanti allora questo ci aiuta a capire perché per esempio non dovremmo mai tenere in mano il cellulare mentre guidiamo perché può succedere veramente a tutti questo sulla cosa della guerra adesso rispondiamo mi dice la pagina e siamo a pagina stiamo leggendo a pagina dove siamo qua 191 ecco grazie maria vittoria i collaboratori grazie allora si diceva una creatura che può essere causa di sofferenze indicibili del esempio e vedo ma gli esempi sono tantissimi come rossi via dicendo il fatto è dice il maestro che ciascuno di noi può essere attenzione e molto sovente è lo strumento di un karma di un proprio simile ciò però non toglie la responsabilità che abbiamo di fronte ai nostri fratelli il fatto che nessuno può subire a torto il dolore che possiamo dargli non vuol dire che noi siamo esono esonerati dalla responsabilità di aver fatto soffrire un nostro fratello anche se questa sofferenza doveva patirla in quanto poi a certi fatti clamorosi per analogia quando si tratta di una sola persona ci si può ricondurre all'esempio di giuda per esempio il quale avrebbe tradito cristo l'avrebbe venduto e che quindi sarebbe nel più profondo dell'inferno giuda però rappresenta lo strumento non solo di una certa parte dell'umanità che viveva al tempo del cristo e che circondava la sua figura in quel momento storico ma rappresenta il simbolo di tutta l'umanità che si era cristallizzata e che in questa cristallizzazione aveva determinato la venuta del cristo sulla terra quindi qui stiamo parlando di alcune figure che sono come dei simboli certo sono anche persone incarnate ma potrebbero essere anche come posso dire dei robot virtuali sono dei simboli che attivano tutta una serie di cose che ne so Hitler da solo non avrebbe potuto realizzare quello che si è realizzato attraverso tutti coloro che l'hanno seguito e che hanno creduto nella follia che proponeva tutte le creature ritenute responsabili di atrocità non sono altro che il simbolo della società delle nazioni e dei popoli che hanno voluto le guerre e in questi si devono comprendere anche coloro che andavano ad applaudire i discorsi degli esponenti delle nazioni di allora anche coloro che davano il loro assenso al movimento di violenza e di crudeltà che fermentava in quel dato momento storico quindi da questo punto di vista tutte le volte che appoggiamo qualcuno che si propone di fare certi atti che poi sfociano in atti di violenza e hanno delle conseguenze noi in qualche modo siamo responsabili di quello che sta succedendo in una misura piuttosto che in un'altra ma c'è una responsabilità da questo punto di vista molto precisa è una responsabilità karmica proprio muoviamo dei karma e poi ci dovremo confrontare con questi karma pensate a quanta insofferenza proviamo oggi noi a dover subire alcune decisioni dei nostri politici ma se andiamo dietro questo discorso che stiamo leggendo adesso non stiamo facendo altro che incontrare l'effetto di alcune leggerezze che abbiamo non noi ma qualcuno prima di noi collegato a noi dalla successione delle incarnazioni alcune leggerezze che sono state compiute per esempio dando un appoggio esterno anche se non diretto ma anche solo di pensiero a certe scelte che poi hanno determinato effetti disastrosi in una società è stato detto vediamo un po' bloccato di nuovo no mi vedete mi dite qualcosa ci sono mi ascoltate luciana mi dice bloccato di nuovo spero di no sta in qualche modo lampeggiando la scritta in diretta mi vedete ci sono è stato detto dice maestro che l'uomo nel cosmo è centro di coscienza e di espressione vi ricordate la distinzione tra centro di sensibilità e di espressione e centro di coscienza e di espressione cominciando le incarnazioni da uomo noi siamo dei centri di coscienza e di espressione siamo coloro che possono riflettere su di sé è una individualità che si ammanta nelle successive incarnazioni di diverse personalità ma tutte queste personalità sono illusorie come tutto il resto dell'emanato e questo abbiamo già visto in che senso no l'unica che mai è nata che mai cambia mai muore è la divinità insita alla radice di ogni cosa nell'uomo rappresenta il suo sé reale nel quale egli può divenire consapevolmente uno col tutto e in esso fondersi così quando viene detto nascita spirituale non si deve intendere nascita dello spirito lo spirito è increato ed è partecipe della natura dell'assoluto e quindi è completo è immortale immutabile infinito eterno e via dicendo nascita spirituale significa manifestazione di questo spirito nella coscienza dell'individuo tale divina eredità ci ricorda che tutto viene dall'uno e per sua forza tutto all'uno tornerà al termine di questo ciclo di manifestazione cosmica tutto allora sarà assorbito nel tutto e tutto sarà omogeneo oltre l'illusione delle forme oltre il mondo delle ombre oltre il continuo cangiarsi del quadro della natura la realtà è la radice di ogni cosa la causa delle cause lo spirito infinito o divina sostanza quindi se se tutto questo è se tutto questo viaggio in un certo senso che stiamo facendo questo viaggio spirituale che stiamo compiendo è come dire è l'espressione centro di coscienza di espressione è l'espressione di una coscienza relativa abbiamo visto a suo tempo ognuno di noi è una coscienza relativa ma che sta vivendo una sorta di illusione di sentirsi separato dal resto della coscienza e questo viaggio è di prendere sempre maggiore consapevolezza di essere in realtà in contatto con tutta la coscienza esistente se questo è il nostro viaggio voi capite bene che tutto quello che avviene durante questo viaggio è a come fine come scopo come funzione quello di aprirci sempre di più a questa coscienza sempre più ampia per permetterci questo questa riconnessione che non si è mai interrotta ma è una riconnessione illusoria una riconnessione illusoria perché di fatto siamo sempre connessi con l'assoluto con la coscienza assoluta di cui noi siamo un frammento di esistenza allora all'interno di questo tutto questo è regolato da leggi ogni cosa che avviene aggiunge un elemento in più perché noi possiamo sempre meglio capire che cosa ci succede intorno e quindi avere una coscienza più competente di questa esperienza che noi facciamo nella nostra vita e quindi capire meglio gli altri capire bene che cos'è la libertà e che cosa succede nei termini in cui ci è stata spiegata da questi maestri ci permette di guardare a quello che accade o nella nostra veste di esseri umani come siamo tutti e cioè di esprimere il nostro giudizio la nostra contrarietà prendere le distanze sentirsi come dire sentire in sofferenza per quello che succede giudicare 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 oppure pur facendo questo perché fa parte del nostro essere uomini pur facendo questo sapere che c'è un modo diverso di guardare a tutto questo come una serie di processi che rappresentano un'esperienza utile a noi che la facciamo per maturare sempre di più nella coscienza questo è il punto di questo percorso che facciamo come esseri viventi ci confrontiamo con questa conoscenza e se è vero che attraverso il comprendere il capire possiamo evitare di prendere la strada dell'esperienza diretta e quindi evitare a noi stessi un'esperienza di fatica karmica beh allora capire queste cose ci aiuta andare in questa direzione qui dice rita se l'uccisore soddisfa il karma dell'ucciso perché deve poi subire a sua volta le conseguenze se le prime anime si accordano prima di incarnarsi le anime non si accordano prima di incarnarsi non fanno dei patti cioè non c'è non c'è una riunione intorno a un tavolo di lavoro in cui si dice allora tu vai di qua tu vai di là poi a un certo punto farei questo a quello là perché tanto a lui gli tocca quindi tu sarai strumento no stanno in questi termini le cose le cose stanno che tutti noi siamo espressioni del nostro gado di coscienza raggiunto e che attraverso le esperienze che subiamo e le esperienze che compiamo maturiamo nella coscienza e ciò che noi facciamo agli altri di ciò che noi facciamo agli altri siamo responsabili anche se gli altri le devono subire perché se uno che uccide uno che comunque deve morire quel giorno deve morire in maniera del tutto inaspettata e anche brutale come nell'uccisione se quello che uccide non fosse responsabile solo perché l'altro per karma doveva vivere quell'esperienza allora quello che uccide non apprende niente se poi lui non incontra a sua volta il karma di venire ucciso da qualcuno e vedersi interrompere la vita per mano di un altro che non avrebbe dovuto farlo come fa ad apprendere a sua volta il non uccidere se uno uccide vuol dire che il non uccidere se uno uccide il non uccidere non l'ha appreso e solo quando incontrerà a sua volta l'esperienza dell'essere ucciso allora capirà l'importanza di non togliere una vita quando lui stesso la perde dopo quella esperienza là e quando dovesse in un'altra incarnazione a togliergli la vita perché lui avrà appreso che la vita non si toglie sarà di nuovo un'altra creatura che non è maturata fino a tal punto da impedire a se stessa di fare quel gesto spero di esserti stato d'aiuto rita sono collegati aggredito e aggressore sono la stessa cosa a livello karmico sono collegati credito aggressore sono le due parti di una stessa connessione e sono uno utile all'altro perché nel realizzarsi della morte della vittima l'aggressore incontrerà successivamente l'esperienza che gli permetterà di apprendere il non uccidere anche nel cerchio napoletano dell'entità ascoltando alcuni video su youtube sembra trattare in simil modo dello spirito del karma sarebbe bello integrare magari come ho detto in una entità credo che questo lavoro sarebbe utilissimo sicuramente qualcuno di voi un giorno lo farà non io però che già ho da comprendere fino in fondo le cose dell'insegnamento allora cari amici oggi c'è una connessione ballerina vedo che ogni tanto il segnale si allenta è stato un po' così oggi mi dispiace perché il tema è molto interessante noi ci rivedremo fra due settimane alle 21 la prossima diretta su questo argomento sarà alle 21 intanto cerco di rispondere ancora a una domanda si può in questa vita evolvere a tal punto da evitare esperienze dirette? no, ma non ce n'è neanche motivo cioè non c'è da fare una rincorsa all'evoluzione guardate c'è solo da capire come funziona questa cosa meravigliosa nella quale siamo immersi e veramente i segreti, gli svelamenti a cui si arriva alla fine di questo percorso di lettura ci permettono di capire molto di questa vita soprattutto ci permettono di capire che non dobbiamo forzare noi stessi in una direzione cioè non dobbiamo raggiungere qualche cosa per cercare di evitare qualcos'altro perché la parte di noi che fa questo è quella che i maestri hanno definito l'io che cerca sempre un po' di qualche scappatoia cerca di evitarsi dei guai ma già cercare di comprendere bene come funziona questo nostro cosmo come funziona questa nostra esperienza esistenziale permette di evitarsi delle fatiche successivamente allora credo che a questo punto vi saluto, vi saluto tutti vi invito a rileggere con molta attenzione quello che abbiamo letto ultimamente perché sono le basi poi di cui avremo bisogno andando avanti non le trascurate queste letture perché sono proprio come dire le fondazioni su cui stiamo tentando di costruire l'edificio della comprensione di questo portentoso insegnamento ma devono essere abbastanza solide queste fondamenta quindi rileggete, cercate di comprendere bene e ponetevi domande e ci vediamo fra due settimane alle 21 un caro saluto a tutti grazie grazie ha